ragazzi buon pomeriggio ed eccomi qua mi ritrovo ancora una volta a postarmi sul social per cose che magari non vorrei mai che mi capitassero nella mia vita soprattutto quella artistica perché come già ho spiegato tantissime volte sono una come tante che fa tanti sacrifici per crescere artisticamente dando veramente tanta professionalità e dando tanto affetto nel lavoro che fa io oggi mi ritrovo ancora una volta a dovermi difendere da qualche pseudo pseudo dico pseudo e lo dico con tanta presunzione perché la verità è quello che è ciò che penso magari in david chi dice la verità non è potuto avrè ma va bene così io mi sono assunta le mie responsabilità per ciò che è accaduto con il maestro d'angelo mesi fa questo pseudo cantante no artista perché tu l'artista non tiene niente per per me te l'ho detto in forma privata ma oggi mi ritrovo a dirlo sul social perché veramente ci hai massacrato le palle te lo dico proprio è bello proprio la soddisfazione sono sette otto mesi che non si è capito tu a me cosa vuoi però sappi pseudo artista maurizio però non mi ricordo cognome come ti chiamo perché non mi ricordo io ricordo di te soltanto una canzone che la gente sa che conosce la conosce tutto parte perché quello è stato un grande successo ancora oggi a distanza di tantissimi anni un grande successo ma gente da non so che la canta tu non so che la canta tu io quindi questo è grave io se fossi in te mi preoccuperei tantissima anzi se fossi in te mi chiedo essere un sarcofago che oggi per avere qualche follower sui tik tok avete perso veramente il ritegno vi dovete vergognare perché tu uomo uomo però non non so c'è uomo perché si maschia ok ma uomo non lo sei per niente ti metti a paragone con me che sono una donna una ragazza una giovane mamma ti devi soltanto vergognare vieni 60 anni stai guaiati sappi che partiranno subito le denunce perché tu ti sei permesso di prenderti la confidenza di postare un mio vocale che ti ho mandato esattamente esattamente nei primi di gennaio dove era successa da poco la discussione con il maestro d'angelo io ho chiesto scusa al maestro perché ci sono andata un po sul pesante però io ho detto la verità nel senso che il mondo neomelodico partendo da quando è nato negli anni 80 nino d'angelo ok perché prima di nino d'angelo esisteva la canzone classica napoletana esisteva la canzone di giacca ok da nino d'angelo che ha creato la nuova melodia siamo tutti quanti andando neomelodici perché facciamo parte della nuova melodia ma non perché siamo cantanti spazzatura mi sono spiegata signor maurizio ok sappi che comunque dicevo sappi che comunque partiranno assolutamente le quindi dicevo sappi signor maurizio che eh già sono partite le denunce perché quello che hai fatto è stato grave tu ti sei permesso il lusso e la confidenza di prendere un mio vocale che ti ho mandato il mese di gennaio dopo aver ricevuto tantissimi attacchi da parte tua attacchi che a te non ti interessano perché tu con nino d'angelo non c'ha zic niente tu non sei nessuno tu non sei nessuno ok nino d'angelo è la storia da raccontare e io in qualità di sua fan di sua figlia artistica mi sono sentita rinnegata e voi non sapete nemmeno il motivo per la quale io ho reagito così e manco questo un can raccontare perché è una cosa mia personale punto e basta ho chiesto scuso al maestro perché ci sono andata all'epoca sul pesante con le parole ok ma io non rinnego nulla di quello che ho detto ok ma tu maurizio personalmente cadmettare da nino d'angelo ma per fare cosa in davidio non sei mai stata e mai sarai perché non ci hai capito maurizio tu non ci hai e tu voglio capire che problema hai con me mi hai chiesto un duetto anni fa un duetto che magari non è rientrato nelle tue aspettative perché magari ti riveva successo ma purtroppo io non sono un camaroni lourde maurizio io mi giusti attanasio posso piacere come non posso piacere evidentemente tu non piace non piacerai mai a te non ti manca nulla ma a me non sembra che a te non ti manca nulla tiene 60 anni ma stai inguaiato cioè tu potresti essere mio padre ti metto a paragone in competizione con me tu con me e cosa centri tu con me uno non c'è niente perché sei uomo uomo però relativamente perché per me l'uomo non fa quello che stai facendo tu e qualche cantante che si sta promettendo che si fa queste queste io non so neanche come l'ha già definito per me vi dovete vergognare perché siete proprio ridicoli siete entrati nel ridicolo solo per avere qualche follower in più qualche qualche visualizzazione in più perché non avete niente da raccontare ma giuro di un sarcofoga rossi fino a ora ma rossi fino a ora tu sei stato uno che ha avuto la fortuna in una canzone che la gente non sa neanche che è la tua che si chiama scunnitzi è diventato un patrimonio della canzone napoletana ma la gente non sa neanche che la canta tu maurizio ma di cosa stiamo parlando tu da me cosa vuoi lasciami in pace fammi stare quieto ok sappi che comunque i tuoi video stanno dal mio legale e sono partite già le querelle le denunce perché quello che hai fatto è grave e ti ha metto veramente scurna vergognati ma che razza di uomo sei si non vergognati ma stiamo scherzando non ti nascondere dietro al maestro d'angelo non lo è care nessuno tanto non serve a niente maurizio rimarrai sempre nel tuo sarcofago sappilo ok state perdendo il cervello la questione mio d'angelo per me chiarità l'è finita là che tu hai preso un vocale mio di gennaio l'ha pubblicato adesso stavo mese maggio quindi concludo nel dire hai perso tempo maurizio ritenta sarei più fortunato nella vita magari in altro non in quello che vorresti fare va bene detto questo spero che la questione sia conclusa qua anche perché non se ne può più basta non se ne può più ce voglio dire si sta parlando da quasi un anno ma talmente che sta giù satanasi ha fatto una cosa così grava ma a me non sembra siamo in un paese democratico dove ognuno esprime il suo parere ok poi ognuno è responsabile di quello che dice io mi sono presa la mia responsabilità nel chiedere scusa al maestro d'angelo perché ci sono andata sul pesante sulle parole però sappiate bene che io difenderò sempre la mia categoria l'abbiamo fatto ancora oggi con un grande concerto dove l'ho voluto io fortemente l'ho proposto alle mie amiche a stefania lei e nancy e loro hanno accettato è stato un grande successo un successo che sta facendo parlare da oltre tre giorni solo perché ma da questa esperienza che abbiamo vissuto della pandemia a where c'è sta where c'è sta nei guai pensate a me pensate a maestro d'angelo pensate a fare cattiveria a dicere e le cazzate tutte stronzate ma dai pensate ad altro nella vita ragazzi pulitevi bene non facite cattiveria perché cattiveria vi porterà da nessuna parte vi riporteranno soltanto nella vostra cattiveria e morirete da soli nella vostra cattiveria perché sappiate bene tutto quello che cosa facca quando iate la non potete immaginare quello che vi aspetto va bene siate più buoni nella vita lasciate da parte la gelosia l'invidia la cattiveria non sapete come la te la definì e pensate ad altro pensate a fare le cose positive nella vita non pensate a fare queste cose qua usate il social per fare altro non per mettere zizzagna non per mettere casini per dire questo schifo perché si vede solo schifo da questi social è uno schifo veramente in qualità di mamma veramente io penso che ai nostri figli non abbiamo riservato un futuro per niente migliore di quello che abbiamo avuto noi anzi stiamo rovinati e questa è la cosa più brutta perché ogni genitore fa tanti sacrifici per portare avanti la famiglia per 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 garantire un futuro migliore per i propri figli ma che futuro c'è stiamo a sti panna sti figlieri nostri questo è il vero schifo ma io lo posso ammettere magari accettare da qualche giovane che non sei valori della vita ma non ripersonate tutto che sono genitori e sono nonni mettetevi vergogna ok abbiate un po di dignità un po di rispetto soprattutto nel confronto della donna ma che vado a imparare del david niente un bacio grande